Questa è stata mare dovevo andare a fare le tuffe Ma io devo tenere la mascherina con la maschera e si appanna tutto Ma come fai? Com'è questa cosa? Non ho capito Che poi volevo sapere Se sto affogando il bagnino come mi fa salvare a stare un metro da me? Quello ti arpiona, ti spara e poi ti tira piano piano arriva Ma se devo prendere il polpo a un metro dal polpo devo stare Il 63 può fare il bagno? Ce l'ho io il 63 Il che deve aspettare due ore prima di fare il bagno animali sennò muori Ma se prendo un altro numero quando posso farne il bagno? Nel 2025 Ma ma c'è Davide E' entrato uno squalo dentro la pendola nonno e quando si vede che c'ha fame la natura Non hanno più paura dell'uomo e si è messo a giocare con le patate E adesso è diventato tipo la braciola di squalo Ma io non ho capito abbiamo pagato per stare dentro a questa cabina telefonica Che sta alle 50 gradi e sta piena di zanzare Qua bisogna disinfettare tutto, bisogna portare tutta l'attrezzatura che non si sa mai Che poi questo oppure te lo metti sopra la pelle e ti fa la bronzatura A me viene la bronzatura come belen, mi chiamo la belen di baria Quanti animali belli a nonna che stanno in mezzo al mare Non hanno paura dell'uomo e giocano e si vogliono rifugiare Si rifugiano pure dentro i timballi, proprio non hanno paura Il bambino è stato preso alla velusa Qualcuno c'ha la pipì da ferra che fa sopra il bambino Io mo l'ho fatto a mare, saperlo, lo facevo io per il bambino Ma l'anguria che dobbiamo legare a mare per tenerla fresca Deve stare a un metro dagli altri anguria Perché non hanno previsto lo spazio, che cappra di ride questo Fai una cosa, stanno le docce là, valla a legare dentro la doccia e apri l'acqua Mamma hai portato i 12 kg di riso insalata? Ho portato solo 15 kg, nonna, siamo 4, penso che bastano Se poi serve qualcosa e più mi butto a mare a prendere qualche cosa Scusa, perché hai portato il frigorifero grande? Ho portato il frigorifero piccolo, quello grande non ce la facevi il generatore Che adesso vado a prendere il generatore della macchina e attacco il frigo e i fornelli Ho fatto la cacca nella sabbia Adesso con questo spingo a un metro, così puoi andare un altro dopo a farlo E che c'è il metro di distanza Tutta a post E tutta a post In Italia Tutta a post